Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo speciale, ovvero uno speciale per la festa della donna. Auguri a tutte le donne, di vero cuore, e a tutte le iscritte, anche quelle che non sono iscritte, anzi, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, mi raccomando. Volevo portare un film che fosse Girl Power, un film dove le donne non sono delle cretine, che scappano, sono delle deficienti patentate. E il film che mi è venuto in mente è stato questo, Paradise Beach con Black Liberty. Lo so, tanti di voi, i maschietti, si staranno già bagnando. Film che mi è piaciuto davvero tanto, qua abbiamo il regista che ha fatto vari film con Liam Ninson, quindi si vede una regia interessante, una bella fotografia, soprattutto quando l'ho visto in 4K, io mi ci sono innamorato in 4K, ho visto un sacco di otto questo film. Soprattutto quando venivano amici, parenti, dicono, ma fammi vedere questo 4K, ma qual è la differenza tra il full HD? E qua vi faccio vedere la differenza, perché la Sony qua, veramente, confezione di un film perfetto, su tutte le cose, sull'HDR, veramente qua, spacca di brutto. Quindi vi consiglio di andarlo a recuperare. Detto questo, parliamo della trama. La trama è semplice, abbiamo questa ragazza che vuole ricordare la memoria di sua madre, che era una surfista come lei, che ha passato questa sua passione, e va in questa isola dove c'è questa spiaggia, dove nessuno ci va, che è veramente sconosciuto e anche un po' pericoloso. Io l'avvisa anche il tizio che la porta lì, ma lei se ne sbatte la ciolla. Lei va lì e si incontrerà con il nostro squalo. Succederanno tante cose, l'adrenalina sarà a cardiopalma e ci saranno comunque cose trash, perché so che tanta gente su film gli ha fatto cagare a spruzzo, ma non hanno capito che film, non è che si prenda proprio seriamente. Se prendete altri film che ha fatto il nostro regista, che ha messo a ricordare, che ha fatto i film William Nison, che erano veramente fatti bene, mi sembra... Non mi ricordo i titoli che ha fatto, cazzo, William Nison. Chi se li ricorda mi ha messo qua sotto nei commenti. Un film che lei riesce a lottare contro lo squalo, ma senza bisogno dell'uomo, il classico, la donna l'uomo viene ad aiutarla. No, se la torna a cavallo da solo, come una stronza lì. E la cosa, questa è la cosa figa, secondo me, che cazzo dà potenza al film. Che è una donna sola contro lo squalo. E questo, secondo me, è, diciamo, perfetto, proprio per festeggiare la donna. Una donna con i controcoglioni. Perché le donne non sono tutte quante che scappano, o ci hanno paura, o ci hanno bisogno dell'uomo vicino. Le donne ce la fanno anche a stare da sole, porca puttana. Se si tronzate, leviamole di mezzo. Quindi, viva le donne, auguri a tutte le donne, soprattutto alle iscritte. Detto questo, è anche un grande augurio, anche alla mia amatissima reggia Katia. Che ne vede, amo alla follia. Detto questo, io vi ringrazio e alla prossima.